Volge quasi al termine la stagione sportiva, ma paradossalmente inizia il momento più importante, quello in cui si tirano le somme, si raggiungono gli obiettivi prefissati oppure si ottengono delusioni. Nel campionato di eccellenza, l'ultima giornata della fase a Gironi si gioca sabato alle 16 in contemporaneità su tutti i campi. L'Ischia, con il pareggio della scorsa settimana contro il Napoli United, ha sprecato un'occasione ghiottissima per portarsi al secondo posto, visto il passo falso del Savoia. I gialloblu ora non possono più sbagliare e dovranno necessariamente conquistare i tre punti in casa dell'Albanova, già salvo e senza obiettivi, per assicurarsi il terzo posto e sperare ancora nel secondo. In questo caso però servirà ancora un passo falso del Savoia, questa volta contro il Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate che a sua volta si gioca la quart'ultima posizione in classifica e quindi la possibilità di giocare almeno un play-out in casa, con il Real Forio che invece sabato ospiterà la Calisela Maddalonese, a sua volta impegnata nel raggiungimento dell'obiettivo salvezza diretta. Per chiudere, la Neapolis, che ha minime chance di riagganciare il play-out, andrà in casa del Napoli United, che è ad un punto di distacco dall'Ischia, terza in classifica. Il Barano giocherà la sua ultima partita nel campionato di eccellenza in casa contro il Mondragone. Anche in promozione, ultima giornata, per il Procida già salvo, trasferta in casa dell'Ercolanese e per l'Acquameno già retrocesso, ultima gara casalinga contro il Sant'Anastasia. In seconda categoria, big match per il Casamicciola sabato pomeriggio alle 16.30 al Monti di Meglio contro il Casalnuovo in Palio, il terzo posto. In eccellenza femminile, partita proibitiva per l'Ischia domenica mattina in casa della Salernitana. Nel calcio a 5 è tempo di play-off per la Virtus Libera Forio da neopromossa in Serie C1. La prima di una lunga serie di entusiasmanti sfide è in programma sabato pomeriggio alle 15 al Palacasale di Forio contro il Cus Napoli, arrivato all'ottavo posto in classifica nella prima fase. Ultima giornata nel campionato di Serie D. Nel girone B, il Forio giocherà la sua ultima gara stagionale in casa contro il Fuzz alla Cerra. Partita decisiva invece per la Fenix Ischia in casa del Pineta Mare. In caso di vittoria, i ragazzini Mister Giancola conquisteranno il secondo posto, in caso di pareggio il terzo e in caso di sconfitta il quarto. Sarà in ogni caso play-off, ma cambiano tantissimo in base ai risultati gli scenari per il fattore campo. Nel girone C, infine il Barano, già campione, ospita il Fressuriello, mentre l'Epomeo andrà in casa dell'Olympic Cappella in attesa dei play-off. Nel basket, il difficile cammino verso la salvezza del Forio in Serie B fa tappa sul campo proibitivo della capolista Grigento, domenica alle 18, a tre giornate dalla fine della fase a Gironi. In Serie C Silver, invece, la cestistica Ischia, impegnata nella fase promozione, ospiterà il Marigliano alla Sojuzzo, sabato pomeriggio alle 16.30. Grazie a tutti.